Servizio ad alto impatto dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli durante la settimana delle festività natalizie. Eseguiti oltre mille controlli, arrestate 47 persone e denunciate a piede libero altre 11. Grande attenzione è stata rivolta alla prevenzione dei furti in appartamento e negli esercizi commerciali e alla prevenzione degli scippi. A Piazza del Gesù una pattuglia della stazione Napoli San Giuseppe ha sorpreso un cittadino tunisino 44enne, mentre tra la folla tentava di rubare un telefonino dalla borsa di una signora, riuscendo a bloccarlo. L'uomo è stato trovato in possesso di 4 smartphone provento di furti appena commessi. I due militari hanno riportato 7 e 10 giorni per traumi contusi vivari e per trauma facciale. L'uomo è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale, nonché furto aggravato, continuato e ricettazione. Sono stati anche controllate molte persone sottoposte agli arresti domiciliari. È il caso di Vittorio Madonna, 35 anni di Scampia, arrestato il giorno della vigilia dei carabinieri del nucleo radomobile di Napoli, nonostante fosse domiciliari. Infatti è uscito di casa per incontrare alcune persone. Sempre a Scampia e anche a Secondigliano, i militari hanno denunciato per guida senza patente un 19enne e contestato violazioni al codice della strada per più di 36.000 euro. Nel quartiere Poggio Reale, i militari hanno denunciato un parcheggiatore abusivo e un 53enne di casa al nuovo con il divieto di dimora a Napoli, ma sorpreso su via Stadera, in auto, con un atto pregiudicato. Nella zona di Porta Nolana, sanzioni per oltre 2.000 euro a conducenti sorprese a guidare senza patente, senza casco e senza documenti, oppure alla guida di veicoli non revisionati e non assicurati. Sono state ritirate patente e sequestrate due scooter. A Rione Traiano, poi una pattuglia, annotato e arrestato un ventenne per detenzione di droga a fini di spaccio. E infine a Barra, i carabinieri hanno arrestato per furto, aggravato un quarantenne, già noto alle forze dell'ordine, Pasquale Esposito. E' stato bloccato dopo aver rubato l'incasso di un negozio di carni, in cui aveva forzato la serranda per impossessarsi di 369 euro.